A chi mai canterò la mia tristezza? Crepuscolo della sera, la grossa umida neve turbina fiaccamente intorno ai fanali, orora accesi, e si posa in uno strato sottile e morbido sui tetti, sul dorso dei cavalli, sulle spalle, sui berretti di pelo. Il vetturino Iona Potapoff è tutto bianco come un fantasma, si è curvato quanto è possibile curvarsi a un corpo vivo, siede a cassetta e non si muove. Se anche lo coprisse un cumulo di neve, egli non sentirebbe il bisogno di scuoterselo di dosso. Anche la sua cavallina è bianca e immobile. Per la sua immobilità e angolosità di forma, e le sue gambe rigide come bastoni, è anche da vicino simile a uno di quei cavallucci di pane che i fornai vendono per una copeca. Con tutta possibilità, essa è immersa nei suoi pensieri. Chi, uomo o bestia, è stato strappato all'aratro, ai paesaggi noti e grigi per essere gettato qui, in questo baratro pieno di luci mostruose, di incessante frastuono e di uomini in corsa, non può non pensare. Iona e la sua cavallina non si muovono da quel posto, da un pezzo. Sono usciti dalla rimessa ancora prima del pranzo e, quanto a clienti, niente e poi niente. Ma ecco, sulla città discendono le ombre della sera, il pallore della luce dei fanali cede a un color vivo e l'andirivieni della via si fa più rumoroso. «Vetturino, via Viborg!» Ode Iona. «Vetturino!» Iona sussulta e, attraverso le ciglia incollate di neve, vede un militare in cappotto col cappuccio. «Via Viborg!» ripete il militare. «Ok, dormi! Via Viborg!» In segno di dissenso, Iona tira le redini e a questo atto, dal dorso della cavalla e dalle sue spalle, casca la neve a strati. Il militare si siede nella slitta. Il vetturino fa schioccare la lingua, allunga il collo come un cigno, si solleva e, più per abitudine che per necessità, agita la frusta. Anche la cavallina allunga il collo, piega le gambe che erano simili a bastoni e si mette in moto, indecisa. «Dove vai?» «Demonio!» grida una voce a Iona appena si è mosso. Dalla folla oscura che cammina davanti e dietro a lui. «Dove diavolo vai a finire? Tieni la destra!» «Tu non sai guidare!» «Tieni la destra!» dice irritato il militare. Un cocchiere dalla cassetta di una carrozza lo rimbrotta. Un passante che attraversa la strada e che ha strofinato con la spalla il muso della cavallina lo guarda con rabbia e scuote dalle maniche la neve. Iona siede a cassetta come sugli aghi, spinge i gomiti dai lati e si guarda intorno come asfissiato quasi che non capisca dove si trovi e perché. «Come sono tutti furfanti!» dice argutamente il militare. «Spiano l'occasione per scontrarsi apposta con te o a cascare sotto il cavallo!» Certo che si sono messi d'accordo. Iona dà uno sguardo al passeggero e muove le labbra. Vuole evidentemente dire qualche cosa, ma dalla gola non esce niente altro che un mugolio. «Cosa?» domanda il militare. Iona torce le labbra ad un sorriso, sforza la gola e dice «Rauco, un figlio, signore, mi è morto questa settimana!» «Mmm, e di che cosa è morto?» Iona si gira con tutto il torso verso il passeggero e dice «E chi lo sa?» «Di febbre, pare!» «È rimasto due giorni all'ospedale ed è morto!» «Volontà di Dio!» «Svolta, diavolo!» si sente gridare nell'oscurità. «Sai ammattito, vecchio cane!» «Guarda dove vai!» «Va, va!» dice il passeggero «Così non arriveremo neanche domani!» «Vai più svelto!» Il vetturino allunga di nuovo il collo, si solleva e con grazia pesante agita la frusta. Parecchie volte poi si volge a gettare un'occhiata al passeggero, ma questi ha chiuso gli occhi e evidentemente non è disposto ad ascoltare. Depostolo in via Viborg, Jonas si ferma presso la trattoria, si piega sulla cassetta e di nuovo resta immobile. La neve, umida, di nuovo in bianca lui e la cavallina. Passa un'ora, due. Sul marciapiede, battendo rumorosamente le soprascarpe e litigando, passano tre giovanotti, due alti e sottili, il terzo piccolo e gobbo. «Vetturino! Al ponte della polizia!» grida con voce stridente il gobbetto. «Per tre, un ventino!» Iona tira le briglie e fa schioccare la lingua. Il prezzo di un ventino non è conveniente, ma ora non gli importa il prezzo. Rublo o soldo per lui ora è tutt'uno, purché ci sia qualcuno da condurre. Il giovane, urtandosi e dicendo male parole, si avvicinano alla slitta e vi salgono tutti e tre insieme. Comincia la discussione sul problema chi debba sedere e chi stare in piedi. Dopo un lungo bisticcio, i capricci e rimproveri decidono che in piedi deve restare il gobbetto perché è il più piccolo. «Su! Muoviti!» dice con la sua vocina stridente il gobbetto accomodandosi e respirando sulla nuca di Iona. «Picchia!» «Ma che berretto hai, buon uomo! In tutta Pietroburgo non ne trovi uno peggiore!» Iona ride. «E' quel che c'è!» «Su!» «Su!» «Quel che c'è!» «Sbrigati!» «Ci vuoi portare così ad agio per tutta la strada?» «Sì!» «E se ti dessi un golino?» «Mi duele la testa» dice uno dei due altri. «Ieri dai Dukmasov io e Vasca abbiamo bevuto in due quattro bottiglie di cognac. Non capisco a che scopo mentire!» si arrabbia l'altro. «Menti come un animale!» «Che Dio mi punisca se non è vero!» «È vero?» «Com'è vero che un pilocchio ha la tosse!» «Solide furbescamente Iona!» «Gente allegra!» «Che il diavolo li porti!» il gobletto si indigna. «Vai! Vai o non vai?» «Peste che non sei altro!» «Che si guida così!» «Ma dagli con la frusta!» «Su, diavolo! Su! Come si deve!» Iona sente dietro la schiena agitarsi il corpo e tremare la voce del gobletto. «Ho delle contumelie che gli sono rivolte!» «Vede delle persone!» e questo gli alleggerisce nel petto il senso della solitudine. Il gobbo continua a insolentire fino a che un'insolenza artificiosa enorme non gli va di traverso e lo fa tossire. I due altri cominciano a parlare di una certa Nadeska Petrovna. Io ho una lisbircia di tanto in tanto. Approfittando di una breve pausa si volge indietro un'altra volta e borbotta. «E a me questa settimana è morto un figlio!» «Tutti morremmo!» sospira il gobletto asciugandosi dopo un attacco di tosse alle labbra. «Frusta! Frusta!» «Signori, io assolutamente non posso più andare avanti così!» «Quando arriveremo dunque?» «E tu dagli un po' di coraggio!» «Sulla schiena!» «Vecchia peste! Senti!» «Ti romperò le ossa! Capisci!» «Se si fanno cerimonie con voi altri è come andare a piedi!» «Senti o ti infischi delle nostre parole!» «E Iona ho di più che non intenda le voci che gli risuona dietro la nuca!» «Rida, gente allegra!» «Che Dio conceda loro salute!» «Vetturino, sei ammogliato?» domanda uno dei due alti. «Gente allegra!» «Adesso ho una moglie!» «La terra umida!» «La fossa!» «Voglio dire!» «Il figliore mi è morto e io sono vivo!» «Tra una cosa la morte!» «Se è sbagliata d'uscio!» «Invece di venire da me è andata dal figlio!» «E Iona si volta per raccontare come è morto il suo figliuolo!» «Ma qui il gobbetto respira di sollievo e dichiara che grazie a Dio finalmente sono arrivati!» «Preso il ventino Iona guarda a lungo dietro ai tre sfaccendati che dispaiono in un portone oscuro è di nuovo solo e di nuovo si rifà per lui il silenzio l'angoscia calmata per poco ricompare e lanci nel petto con più forza ancora gli occhi di Iona inquieti e dolorosi seguono la gente che corre ai due lati della via non ci sarà fra quelle migliaia di persone neanche una che voglia ascoltarlo ma la folla corre e non si accorge né di lui né della sua angoscia l'angoscia immensa senza limiti se il petto di Iona scoppiasse e l'angoscia se ne riversasse fuori inonderebbe tutto il mondo eppure non si vede ha saputo trovare posto in un guscio così piccolo che non la scorgeresti neanche di giorno con l'ume Iona vede un portiere con un fagottino e decide di mettersi a parlare con lui «Caro, che ora è?» domanda «son quasi le dieci perché ti fermi qui?» «Vattene!» Iona si allontana di qualche passo si curva e si dà tutto alla sua pena ormai considera inutile rivolgersi agli uomini ma non passano nemmeno cinque minuti e si drizza scrolla il capo come se avesse sentito un dolore acuto e scuote le briglie non ne può più alla stalla pensa alla stalla e la cavallina quasi che abbia capito il suo pensiero si mette a trottare un'ora e mezzo dopo Iona siede già presso una grande stufa sudicia sulla stufa sul pavimento sulle seggiole dappertutto c'è gente che russa nell'aria c'è un caldo grave soffocante Iona osserva i dormienti si gratta e rimpiange di essere tornato presto a casa non sono andato a prendere la vena pensa per questo sono triste un uomo pratico proprio del mestiere quando ha mangiato e dato da mangiare al cavallo è sempre tranquillo in uno degli angoli si leva un vetturino giovane borbotta assonnato e va verso il secchio dell'acqua hai sete? domanda Iona pare ecco alla tua salute e a me caro è morto un figlio hai sentito? questa settimana all'ospedale una storia Iona osserva quale effetto producano le sue parole ma non vede niente il giovane si è coperto la testa e dorme già il vecchio sospira e si gratta come il giovane aveva voglia di bere così egli ha voglia di parlare presto farà una settimana che il figlio è morto e lui non è riuscito a parlare con nessuno bisogna parlare con metodo con qualche pausa bisogna raccontare come il figlio si è ammalato come ha sofferto e cosa ha detto prima di morire come è morto bisogna descrivere i funerali e la sua corsa all'ospedale in cerca dell'abito del morto al paese è rimasta la figlia Anissia e bisogna parlare anche di lei che è poco quello di cui ora potrebbe parlare chi ascolta deve dare inesclamazioni deve sospirare fare lamenti con le donne sarebbe ancora meglio anche se sono stupide danno insinghiozzi dopo due parole vado a dare un'occhiata al cavallo pensa Iona avrò sempre tempo di dormire dormirò abbastanza lo stesso si veste e va nella stalla pensa alla vena al fieno al tempo che fa al figlio quando è solo non può pensare parlare di lui con qualcuno può ma pensare solo e disegnare a se stesso la figura di lui è penoso e insopportabile mangi? domanda Iona alla cavalla vedendo i suoi occhi lucenti mangi mangi non siamo andati a comprare l'avena e dunque mangeremo del fieno ti sono vecchio ormai per il mestiere a mio figlio toccava non a me quello era un vero vetturino fosse ancora vivo io ho una tace per qualche tempo poi continua così è cavallina cara non c'è più Kusmajonic se n'è andato morto inutilmente ora diciamo tu hai un piccolo puledro e tu di questo piccolo puledro sei la mamma ed improvviso diciamo questo stesso piccolo puledro muore non è una pena la cavallina mangia ascolta e soffia sulla mano del suo padrone Iona si commuove e racconta tutto a lei grazie grazie grazie